ancora ben trovati dalla redazione di firenze smart in studio agnese fedeli diamo gli ultimi aggiornamenti su traffico e mobilità in toscana a cominciare dall'autostrada in a 11 due chilometri di coda per incidente verso firenze tra monte cadini terme e pistoia per traffico inoltre code a tratti sempre verso firenze tra pistoia il bivio con la 1 e tra sesto fiorentino e firenze per etola in fipilico dei attratti per traffico tra ginestra e firenze scandici in carreggiato opposta troviamo rallentamenti tra pisa aeroporto e vive della mazione pisa raccordo pisa centro e coda in uscita a santa croce per chi proviene da firenze prima di salutarci per il traffico urbano di firenze segnaliamo restringimento di carreggiata per soste irregolari in via di san salvi può versi in toscana infe un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze per ora è tutto buon viaggio